Chi non ricorda quella semifinale della partita tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di quell'anno? Un gol fantastico, forse il gol del secolo come qualche anno dopo venne definito quello che segnò Maradona come secondo gol, ma quello che è rimasto nella storia paradossalmente è il gol che non doveva esserci, come disse Maradona un gol fatto un poco con la cabeza di Maradona, io troppo con la mano di Dios, gli inglesi ancora lo devono digerire e devono digerire l'incapacità del campionissimo di scusarsi, vorrei scusarmi ma non posso cambiare la storia, non è saggezza forse, ma è qualcosa che ci consegna alla memoria un fatto indimenticabile e questo non finiremo mai di dire grazie a Maradona. Grazie